Io sono venuto qui per sganciare una bomba Tu sei qui per sganciare una bomba? Io credo che se In questo periodo per le bombe bisogna andare un po' più Ad est in Europa Ucraina, Donbass Ma fra poco pioveranno Perché io credo che un uomo non sia degno Delle sue idee se non è pronto a combattere per esse E quindi Rick Sei pronto Devo prepararmi tanto? A me Matrix 4 è piaciuto Che film scusa? Matrix 4 Resurrection Sono uscito felice dal cinema Mi è piaciuto moltissimo E avevo ascoltato la cogitata quel giorno Per cui ero pronto a odiarlo E invece no, mi è piaciuto un sacco Madonna, allora va bene Vuoi che partiamo veramente da questo? No, perché Volevo lanciare la bomba Va bene, va bene, va bene Cosa cazzo ti è piaciuto? A me è piaciuta la libertà Senza nessuna aggressività Cosa cazzo ti è piaciuto? No, secondo me Lui è andato per vedere Matrix 4 Ha visto un altro film E gli è piaciuto Ah Ecco cosa è successo A me è piaciuto Matrix 4 meglio di Solaris Oddio, adesso ecco Non arriverei a dire questo Siete dei pezzi di merda Meglio di Solaris no Ecco, meglio di Solaris no Non vi stemmiamo per favore Però mi è piaciuta Mi è piaciuta la libertà creativa Di una regista Che si è permessa di dire Avete voluto che facessi un film Che non volevo fare E faccio un'altra cosa E secondo me Ma al di là dell'aspetto Psicologo Mi è piaciuto il film Secondo me Mi è piaciuto il film Mi è piaciuto il film Non è quello che ci si aspettava Non è il Matrix No va bene Però Siamo d'accordo sul fatto che Tipo i combattimenti Sono veramente fatti male Cioè sono fatti male Nel senso Nel senso vero del termine Le sparatorie Allora Non sono quelle di Matrix No non lo sono Ma credo che fosse programmatico Eh ho capito Io però Non le ho viste come un Ci ho provato ed è venuto male Le ho viste come un Volevo fare una roba diversa Non sono d'accordo io su questo Cioè su questo non sono d'accordo Perché il ritmo Tipo c'è la sparatoria A un certo punto Quando è una delle prime volte In cui vedi il nuovo Agente Smith Quella sparatoria È proprio scialba Cioè non è che Non è che dici Ah c'è dietro L'estetica del brutto Un po' la Umberto Eco Ok È proprio Buttata là E Con le robe lì Ecco Smith è l'unica cosa Che non mi è piaciuta Del film Devo dire Proprio non mi è piaciuta Perché l'ho trovato Sprecato come personaggio Non mi è piaciuto Come è stato gestito Attenzione Non sto dicendo che Mattis Quartz Per me è un capolavoro Sto dicendo che Ti è piaciuto Sono andato al cinema Ascoltando te Ok Sono entrato al cinema così E poi sono uscito contento E forse ti ho fatto del bene Perché sei partito Con delle aspettative Talmente basse Che potevi solo rimbalzare Verso l'alto Avevo già pronto Facebook per postare E invece no Invece mi sono divertito E l'ho trovato Tra l'altro Sorprendentemente Allora la trama Va in una direzione In cui non ci si poteva aspettare Guardando i film precedenti Certo Ma a mio avviso Si collega bene Cioè tornano le cose Non ho visto Bucchi di Temevo Bucchi di trama Devastante Bucchi di trama No Perché no È tutto abbastanza coerente Torna Poi c'è quei due o tre discorsi meta Che a te hanno fatto il cazzare A me sono piaciuti No 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 Allora sui discorsi meta Io come ho detto nella recensione Io capisco l'intento metanarrativo A me la metanarrazione piace Cioè uno dei miei autori preferiti è che no Quindi voglio dire Certo che mi piace È che C'è uno stile anche per il meta E secondo me Sì non è Truffaut Ho capito Certo Non incontra quei parametri Che poi io cerco In una metanarrazione Cioè voglio dire Non è neanche Charlie Kaufman Ok Che è un maestro della metanarrazione Lì Mancano proprio i criteri minimi Che mi fanno dire Ah Questa metanarrazione Ha un elemento Che Mi dà valore Alla scelta del meta Per il film Eh no È il meta fatto Perché se può fa Capito E questa roba qua A me non è Non è piaciuta Capisco l'intento Capisco tutto Però ci sono questi due gravi difetti Secondo me Il primo è che Le cose brutte Percepisco io E poi magari Magari uno che ne sa Di più di cinema Rispetto a me Mi dice No no In realtà questa scelta È fenomenale Ancora nessuno me l'ha spiegato Però può essere Però per come l'ho percepito io Le scelte Le parti brutte Sono brutte Perché sono Sono Sciatte Sciatte Capito No E io la sciatteria Non è Non è il meta La sciatteria Gli sparatori Gli inseguimenti Le scene d'azione Le ho trovate proprio Debolissime E poi il fatto che Il meta Secondo me È per il meta Meta for Metas sake Potremmo dire E in realtà Se io vado a guardare invece Appunto Charlie Kaufman Ed altri grandi autori Meta Ogni volta Nella storia C'è Qualche cosa C'è qualcosa Che ti fa scattare E dici Ah è per questo Che c'è la rottura Della quarta parete E via dicendo Quindi Semplicemente questo Perciò Sì Sono d'accordo Che lei Creativamente Ha detto Ah sapete cosa Mi avete fatto fare Un film che non volevo fare E sti cazzi A quel puntino Lo fai fare a qualcun altro Però c'è capito Però c'è il discorso iniziale Dice io so cosa avrebbe fatto Qualcun altro Avrebbe fatto la minestra riscaldata Invece io Volete la minestra Io vi do il broccolo Eh sì Questo posso capirlo Però un broccolo Proprio di merda Cioè nel senso Sarà che i broccoli Non mi fanno impazzire Io sono contento Che tu possa Avere la libertà Di sbagliarti In questo momento Assolutamente io guarda Cioè la cosa La cosa più interessante È che di nuovo Com'è stata presa Sai che sono usciti Ci sono stati fuori Un sacco di video Di gente che mi fa Adesso spiego Matrix 4 Rektufer E io Ho risposto A tutti questi Grazie per la spiegazione Ne avevo veramente bisogno E alcuni l'hanno presa Veramente sul serio Io li ho ascoltati questi Una montagna di Banalità e luoghi comuni Che stai e dici Sì Anche perché non era difficile Da capire Cioè non è Ecco quelli che hanno detto Non ho capito il film Cosa hanno guardato Perché si capiva benissimo Si capiva Non è mica Sherlock Holmes Non è mica Agatha Christie Non c'è Lineare Però c'è sta cosa qua E lo spiegonismo Ci sono dei canali americani Che io ho smesso di seguire Perché ormai ogni video è The ending of Interstellar The ending of Matrix Explained Guarda il film Si capisce Ma che palle Uscito dal cinema Mi si avvicinano due tizi E fanno Ma tu hai capito Perché è successo Questo e quello E gli ho detto Eh sì lo dice nel film È così Ah vabbè È stato un momento Tristissimo Bellissimo In realtà erano due personaggi Del film Meta 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 Che sono arrivati Se adesso uno guarda il film Dopo che tu l'hai visto C'è anche quella parte Dopo il film Ah certo Entriamo E la tua cogitata In seguito Questa parte della cogitata Entra nel film Cioè non hai capito Ma siamo entrati Nell'incubo Di Lana Wachowski E non ne usciremo mai Mai più Io ci tenevo A iniziare così Perché dovevo Hai fatto bene Guarda che io C'è nel senso Poi condivido perfettamente Questa cosa qua Sull'intento Eccetera eccetera È che le mie riserve Sono quelle lì Tutto lì E quindi Matrix 4 per me Non esiste Cioè nel senso Questo qua è un'altra roba È un telepolpettone Virtualizzato Meta 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 Sul Lana Wachowski E i suoi deliri Cioè questo per me E nient'altro E quindi va così Va così Va così Sono contento di averti qua Perché tu sai Te l'ho detto già Ma loro non lo sanno Sei il primo ospite Dal 29 O 28 novembre Perché l'ultimo ospite È stato il Masseo In studio Scusa dopo il Masseo Dopo il Masseo Per sento onorato Cioè La sbagazione Ciao Edo Ci rivediamo presto Sono un grande fan Del Masseo Ma io glielo ho detto È il mio guilty pleasure Cioè nel senso Io quando voglio fermarmi E dire Vabbè adesso guardo qualcuno Che fa gaming E mi fa ridere Io guardo lui Non c'è ancora affare È incredibile È meraviglioso E Dario Il mio videomaker È ancora più fan Dai Grande Sì 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 Me lo dicevate Ve lo facevo conoscere Quel giorno Facciamo conoscere Troppo Troppo Non credo che riuscirei A parlare al Masseo È troppo per me E noi sabato poi Ci abbiamo anche Dario Moccia Quindi facciamo Che grande Dario Grande Finalmente riusciamo Se non tira pacco Cazzo un'altra volta Eh Dario Se tiri pacco Ma fa bene No scusami volevo dire Ah quindi sei in ritardo Perché volevi tirare pacco Io volevo Vabbè mi hanno costretto Vabbè Volevi No comunque sei il primo ospite E devo dire che mi mancava Farle cogitate E chi meglio Di ADC Chi meglio di ADC Anche perché Voglio sottoporti Una cosa Una cosa Che Mi sta Sta occupando I nostri pensieri In questo periodo Tu sai che su Twitch Stiamo facendo Facciamo da Un anno e mezzo Ormai anche una rassegna stampa Perfetto È una rubrica Che ci diverte molto Però negli ultimi mesi Ho cominciato Ad avere un problema Il problema è che Su Daily Cogito Io dico sempre La pulizia cognitiva Quindi riuscire a non riempire Di rumore Il proprio orizzonte Saper pensare Con meno cose Di disposizione E acquisire strumenti Più che informazioni Ok E io mi sono accorto Mentre scrivo il libro Per Feltrinelli Che c'è un capitolo Dedicato a questa roba qua E ho detto Cazzo c'è un problema L'assegna stampa È un sacco di rumore La stampa italiana È un sacco di rumore E allora ho ripensato Ad alcuni libri Che ho letto in passato Di critica al giornalismo In cui si dice Tipo c'è un autore Che si chiama Kaplan Il quale dice C'è un problema Non solo Nessun grande Personaggio della storia Van Gogh Dalì E via dicendo Passava tanto tempo A informarsi Uno La creatività Non è informazione Ma due Prova a pensare A tutto quello Che hai Letto Sui giornali Negli editoriali Nell'ultimo anno E prova a ricordarti Di qualcosa Che ti ha veramente aiutato A migliorare la tua vita No niente Zero E mi sono reso conto Che Quella confusione cognitiva Che è un problema Così enorme Oggigiorno La stavamo alimentando E quindi infatti Noi adesso Elimineremo il rassegnato stampa E comincieremo a fare Una nuova rubrica Di approfondimento Quindi sceglieremo tipo Ci abboniamo a delle riviste Scientifiche Artistiche Eccetera eccetera Anzi dovrò chiederti Qualche consiglio Per qualche bella rivista Che parla per esempio Di studio Metodo di studio Memoria Cognizione e via dicendo E ogni giorno Scegliamo un articolo Qualcosa E ce lo leggiamo Ce l'approfondiamo Per scoprire qualcosa di nuovo Al posto che riempirci Di informazioni Cioè stamattina Era segnato E' stato un delirio Cazzo C'è l'elezione Adesso E alla fine Era segnato Proprio ho detto Ragazzi ma Che cazzo abbiamo appreso oggi Niente ci siamo divertiti Perché insultiamo i giornalisti Ma non c'è nient'altro Ma chi è Bianca Scheda L'abbiamo capito Chi è che le eleggono Vabbè Mi importa Fede stacca il microfono Mi ha dicendo Fede stacca Scusate Non ho potuto farne a meno Ma sai che questo tema Mi È anni che mi interrogo Su questa cosa Perché c'è stato un periodo Della mia vita Che è terminato Metti Nel 2018 Però un periodo Di 4-5 anni In cui soprattutto L'aspetto Del politico E l'aspetto Dell'informazione Per me era centrale Nella mia giornata Gli avevo giornali online Guardavo tutti i talk show Avevo anche un impegno attivo In politica Bombardato Di queste informazioni E poi a un certo punto Non ce l'ho fatta più E ho detto Bona basta Non ce la faccio più E mi sono sentito in colpa Perché io sono sempre stato Quella persona Che diceva agli altri Tu dovresti partecipare Di più Dovresti occuparti Della politica Dovresti sapere Dovresti leggere Dove sia E però a un certo punto Per il mio benessere Interiore Ho cominciato a staccare Ho smesso di guardare i talk show Ho smesso di leggere La pagina politica Di Renzi Dopo di quello Io ho detto Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non mi ricordo neanche Cosa era il 2016 17 16 Sì sì Dicembre 16 Per un altro po' Ho continuato E poi dopo È nato tutto E devo dirti che Però Lo spazio cognitivo Che ho recuperato È un spazio importante C'è proprio Liberi RAM Ti rendi conto Che c'è un sacco Di junk information E liberi RAM È una roba devastante Quando c'era la storia Della Brexit Ero sempre lì Incazzato E quando le elezioni di Trump Ero sempre preoccupato E a un certo punto Ho detto Sai che c'è Allora È chiaro che alcune cose Per esempio L'ultima questione Che mi ha molto colpito Mi chiedevi Cosa mi è rimasto Il ritiro delle truppe Dall'Afghanistan Quella cosa lì È l'ultima Che mi è rimasta Davvero di quest'anno Sì E mi ha colpito tanto E ho letto molto Per approfondire Però C'è l'argomento Che approfondisci Sì esatto Ok E io credo che Quando succede qualcosa di grosso In qualche modo Ne vieni a contatto Poi nulla Ci vede Cioè io poi sono iscritto A tante newsletter Non so Al mattino mi ascolto Francesco Costa Ok Perché me lo sento Non è certo Però ho detto Cazzo Bisogna emendare Letteralmente Tagliare Cutare Perché Perché mi rendo conto Che l'informazione Vissuta in quel modo lì Ti sminuisce Cioè ti schiaccia Letteralmente Ti schiaccia Perché alla fine Al di là del fatto Che ti rassegni Cioè letteralmente Ti rassegni Non è solo una battuta Finisci per dire Vaffanculo Cioè nel senso Cosa posso fare Guardo Bisfattista Diventi pessimista E perdi Quell'aspetto lì Che invece Quando dedichi del tempo A lettura A studio Dovresti imparare Delle cose E allora In queste settimane Mi sono guardato Tipo tutti gli editoriali Che abbiamo letto E ho detto Ma io cosa ho preso Da questa roba qua Non ricordi nulla Non ricordo Cioè quello che ricordo Più che altro Sono tutte sempre le stesse cose Sono speculazioni Il chiacchiericcio Di Heidegger Il si dice Il si pensa Che è una roba odiosa Ok E quindi mi sono detto Vabbè basta Perché non ho voglia Di alimentare La confusione Ieri Ieri sera Con Alessia Sul divano Che guardavamo Un pezzo Della maratona Di mentana E a un certo punto Abbiamo detto E poi Dopo questa frase Abbiamo chiuso Ma quanto tempo Possono parlare Del fatto che Non si sa niente Che non si sa niente Sì esatto E andavano avanti E non c'era niente da dire Perché hanno fatto scheda bianca E hanno votato Non lo so Amadeus Che ne so E quanto devono parlare Del fatto che Non si sa niente Non ha detto niente nessuno Non ci sono accordi Esattamente così Dopo un po' Basta Basta Esattamente così Guarda Sarà stato In questi giorni Forse è stato rileggere Pascal Che mi ha proprio Perché Pascal Mezzo millennio fa Parla esattamente di questo Cioè ci dice Guarda Noi perché ci riempiamo Di chiacchiere I divertismon Lui li chiama Quindi anche le opinioni Degli altri Il chiacchiericcio Il pettegolezzo Il gossip Sicuramente il gossip Ha un ruolo sociale Fondamentale Ci permette di Comunque Instaurare relazioni Ti fa far la risata L'inside joke Ci mancherebbe Però poi noi In realtà Cosa che facciamo Noi usiamo Quelle occasioni Per riempire dei vuoti Cioè Siamo diventati questo Noi siamo riempitori Di vuoti Perché in fin dei conti Non vogliamo Non vogliamo stare lì Non vogliamo avere Quell'informazione Con cui puoi stare Con noi stessi E chiederci Cosa me ne faccio Come la uso Come mi relaziona Questa informazione Riempiamo invece Gli spazi E questo crea Una confusione enorme Perché non so se Cioè nello studio Alla fine È una differenza però Cioè tra lo studio E l'oro orvacui C'è una bella differenza Cioè tra dover riempire La testa E usarla Per imparare qualcosa In modo intenzionale Tra l'altro Se proprio vogliamo Entrare un secondo Nel mio campo Se non c'è intenzionalità Non impari niente Assolutamente Per cui essere immersi Nel rumore Continuamente Non lascia niente Non solo perché Il rumore di per sé È ininfluente Ma perché se anche fosse Influente Tu non lo apprenderesti Lo stesso Perché sei Disordinato Distratto In realtà Mezzamente ascolta L'altra metà Fa altro Non serve proprio a nulla E devo dirti che Io stesso però Mi rendo conto Allora la parte politica Sono riuscito a potarla Mi rendo conto però Spesso che mi ritrovo Magari a scrollare In maniera Non dirci cosa Cosa è che scrolli Facebook Scrollo In modo zombesco Capito E lì mi accorgo E cerco di tornare indietro Però a volte È proprio quello che dici tu Cioè riempire un vuoto Ma se lo riempissimo Con qualcosa di intenzionale Ci divertiremo di più Otterremo anche Un miglior risultato Che poi in realtà L'aspetto del riempire Con qualcosa di intenzionale Ha una cosa fondamentale Che tu non hai sempre Qualcosa di intenzionale Con cui riempire Quindi ti trovi Con degli spazi vuoti Che sono necessari Perché è da quegli spazi vuoti Che poi trai gli spunti Trai le riflessioni Che ti permettono di fare Quella cosa lì Cioè se tu invece riempi Tutto quanto Non hai più neanche Lo spazio per nutrire L'intenzionalità Ti vieni sempre Ti vedi trascinato Ma chi fa poi Un lavoro creativo Ha bisogno Degli spazi Di nulla Assolutamente Perché è da lì Che tu puoi muovere Cioè Non mi ricordo Che chi l'aveva detto Forse era un video Addirittura di Di cartoni morti E ad un certo punto C'era il tipo Che stava sulla maca E diceva Ma che lavoro fai Ma io sto lavorando Perché sto pensando Certo Sì sì Era un video di cartoni morti Quella cosa lì però È vera Ci sono delle volte Che mi ritrovo Che fisso il nulla Però sto lavorando Certo Effettivamente Certo È così E se non c'è quel nulla Non ne salta fuori Neanche niente Ecco Devi annoiarti Devi Sentirti un po' perso Io mi annoio Terribilmente Lo sai che annoi Mi racconti Com'è che ti annoi tu Io ogni volta Che sto più di un quarto d'ora Senza avere Un pensiero Che mi sfida In qualche modo Che mi fa Mi rompo le balle In una maniera Sono veramente Intollerante Addirittura Adesso racconto questa cosa Uso un sacco di antistress Perché spesso Se la cosa che sto facendo Non mi stimola Se non ho un antistress Poi mi estraneo E comincio a pensare A qualcos'altro Ok Il tipo Le conversazioni Del più e del meno Se io non c'ho in tasca Se direttamente Non so Un fidget spinner Mi rompo le balle E comincio a pensare A qualcos'altro Io immagino te Tipo che ascolti qualcuno E nel frattempo La tua mano Fa questo gesto strano E la gente non pensa Che tu abbia un fidget spinner Dice Cosa sta facendo Alessandro De Concini Sotto la tavola Sono più bravo Non mi faccio L'incarito Ok Sono diventato Abile Ad avere L'ultima cosa Mi sono comprati Un anello Che sembra un anello E in realtà gira Per cui tu puoi Segretamente Che figata C'è uno dello zaino Lo voglio Ce l'avevo anch'io Era bellissimo E quella cosa lì Mi salva le conversazioni Perché riesco A mantenere Ma non perché La conversazione Non mi interessa Ma perché Quando il livello Di sfida Si abbassa Mi annoio Molto molto C'è che avresti dovuto dire In realtà È perché le conversazioni Ti annoiano Ed è per quello Che non hai qui L'anello Vedi Cioè vedi Devi imparare La cattazio benevolenza Madonna santa Madonna santa Quindi buon fidget spinner Buon 2015 A tutti Io ho una collezione Di antistress Impressionante Di fidget spinner Ne avrò tipo 15 diversi Perché li uso continuamente E se non hai fidget spinner Hai il cubo Sai quei cubi Fidget Sono le robe da squizzare Sempre Perché quella roba lì Mi aiuta Proprio perché Se non mi sento Continuamente stimolato Ma non nel senso Del riempire Come dicevamo prima Ma proprio Del far girare le rotelle Certo Tant'è che Faccio anche un po' troppo Ogni tanto Quindi mi esaurisco Allora cosa fai Ti prendi il weekend Di pausa Ma il weekend Per me è terribile Perché fermarmi Io invece Voglio continuare a macinare Se non mi rompo Per cui ho questa cosa qua Sei un iperattivo Sei un iperattivo Assolutamente No io di antistress Io sono pigro Ok Antistress in realtà Non ne ho veramente mai avuti Cioè nel senso Non No Non ricordo Io ho avuti fisicamente Per alcuni momenti Perché ho detto Magari mi serve E non ti è Usavo per due ore E poi me li dimenticavo In giro Quindi non ho mai avuto Il bisogno E se non è quello È uno scarabocchio A scuola Scarabocchiavo sempre Ma non per non stare attento Alla lezione Proprio per stare attento Alla lezione Sì sì perché ti concentra Mi aiuta È un automatismo Che ti aiuta A entrare nel mood Sì Noi queste cose qua Non le ho mai avute Cioè zara totale L'unico automatismo È stato distruttivo Perché mi mangiavo le unghie Che anche quello è Poi però ho smesso Quindi L'onicofagia L'onicofagia è una roba brutta Poi a un certo punto Mi sono guardato Che schifo E ho smesso Cioè ho avuto il momento In cui ho detto Che schifo È interessante È interessante Sai In questi giorni Dopo il trasloco Mi sono dato Il compito di riappropriarmi Di un po' di spazi Ok Perché effettivamente Quell'intenzionalità Di cui parlavi Ha a che fare Con la riappropriazione Di spazi Cioè hai bisogno Di prenderti gli spazi Per capire Quali sono le tue intenzioni Sono tornato a cucinare Cioè nel senso Sono tornato Che erano anni Che non riuscivo a fare E In una conversazione con Ari Che è stato molto divertente Adesso io racconto una cosa Diciamo così Che ci siamo scambiati io Perché è interessante Per il ragionamento Che stiamo facendo Io ho sempre amato cucinare Purtroppo nella casa di prima Non riuscivo Perché la cucina Era insieme al salotto Ok Quando hai questi spazi qua Non riesci a godertela Adesso invece la cucina È separata dal salotto Quindi mi spingatti E vaffanculo Spingato Faccio fumo Un disastro E va tutto bene Ciao Ok Ogni tanto va dentro la gatta Guarda e scappa È molto divertente E L'importante è che non scappino Anche poi quelli che mangiano No 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 Attualmente no Vabbè poi A me è stata promessa Una grigliata Questa sera Sì sì Questa sera avrai Un'ottima grigliata C'è anche la gatta Nella grigliata Ah benissimo C'è un cenza Pese che vai Gatto che mangi E ragionando con Arianna Allora faccio Io sono proprio contento Ho detto perché Perché alla fine dei conti Quando cucino Penso solo a quella cosa lì Ok E lei mi ha risposto Anche a me piacerebbe Però devo trovare Il momento giusto Ok E io ho detto Eh no Non c'è mai il momento giusto Per queste cose qua Cioè Noi ci siamo convinti E credo che sia una cosa Molto diffusa questa Che Per fare le cose Che ci piacciono Che sia cucinare Leggere Fare sport O via dicendo Debbano esserci Delle condizioni esterne Ok Non devi avere pensieri Di aver finito Tutto il lavoro Non devi avere cose in sospeso Non devi avere gente Che ti rompe le balle Cioè mai Mai Esatto 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 E quindi tu continui A rimandare quella cosa Dicendo Dai ma non è il momento giusto E invece non è così Va rovesciato Il rapporto di causa-effetto Tu a un certo punto Dici Io voglio fare Solo questa cosa qua Mentre la faccio Tutto quello che sta Intorno a rompi i coglioni Io lo metto da parte Ok E mi dedico solo a quello Quando avrò finito Quella cosa Le sarò goduta E ne avrò tratto i benefici Allora tornerò al resto E quando tornerò al resto Sarò più carico Sarò più carico Sarò più riposato Più 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 equilibrato Capito Cioè abbiamo Mi sembra Rovesciato Proprio da un punto di vista Culturale Perché questa cosa è diffusissima Ogni volta in cui la gente mi dice Eric vorrei tanto leggere Ma non trovo il tempo Ma non è vero Non è vero È che ti racconti il fatto Che dovresti leggere Solo quando puoi Ma no Cioè non è così È l'esatto opposto Cioè il problema Secondo me noi abbiamo Scambiato la produttività Per l'iper produttività E non è stato un cambio Molto favorevole Cioè Io parlo anche di produttività Nei miei canali social Nello studio Nel lavoro Eccetera Però l'abbiamo portato All'eccesso questa cosa qui Cioè abbiamo Ci siamo convinti O ci hanno convinto Che ogni minuto Della giornata Deve essere un minuto Che ha un effetto Diretto Sulla nostra produttività Lavorativa O di studenti Perché poi lo studio È il lavoro Dello studente Quindi siamo lavorativi Cioè dobbiamo produrre Sì sì E a mio avviso Questo è un modo sbagliato Di guardare la produttività La produttività Dovrebbe essere L'ottimizzazione Cioè Il dire Io uso il mio tempo In modo intelligente Per ottenere il miglior risultato possibile Ma Per poter essere produttivi Un prerequisito base È avere un equilibrio Psicofisico Decente E questo equilibrio Psicofisico Deve passare necessariamente Da degli spazi per noi Assolutamente sì Io sono il primo Che predica bene Razzola male E attenzione Perché lavoro molto E quando non lavoro Penso al lavoro Quindi sono uno staccano Però per me è un po' diverso Perché per me il lavoro È anche un hobby Cioè io ho Ho proprio una genuina passione Per quello che faccio Quindi ho Ho questo Però in generale Ci siamo proprio convinti Di questa cosa qui Ma io lo vedo Tutti i giorni Con gli studenti Che mi dicono Ho l'esame Fra due settimane Ergo Dalle otto della mattina Alle undici di sera Devo studiare Ma non è così che funziona No no Non funziona E non porti a casa L'esame soprattutto Cioè il punto è che Questa attività tossica Di produttività Riempie Parlavamo di confusione cognitiva Porta al sovraccarico All'overload Certo L'idea del sovraccarico cognitivo Arriva da un lato Dall'esterno Dal bombardamento di informazioni Quello che dicevamo prima Ma dall'altro dall'interno Cioè dalla nostra spinta A pretendere da noi stessi Che ogni minuto sia Produttivo Ma qui faccio una provocazione Cioè i momenti non produttivi Possono essere più produttivi Dei momenti produttivi Non so se Sì perché serve L'alternanza Perché poi Appunto arrivi Tra l'altro ci sono Fior fior di studi scientifici Su questo Sull'idea della Modalità diffusa Diffuse thinking Cioè la modalità In cui non sei focalizzato Su una cosa Ma lasci che La mente lavori in background Segui il flow Esatto Quello però È importantissimo È importantissimo Nello studio Per il lavoro creativo Per il lavoro stesso Certo Un lavoratore che 8 ore deve lavorare Durante un giorno E le lavora non stop È un lavoratore Che difficilmente Potrà essere creativo Che potrà avere Una buona idea Che potrà innovare qualcosa Sarà un esecutore Un braccio meccanico Sono d'accordissimo Guarda io questa cosa qua L'ho percepita qualche anno fa Quando mi son trovato Nella situazione di dirmi Cazzo ma io sto leggendo Per produrre video podcast Questa cosa qua Poteva essere un problema Ed era un problema Perché mi rendevo conto Che ogni volta In cui leggevo qualcosa Avevo la mente Che almeno una parte Della mente che andava Al come posso usarla Questa roba qua Ed era un problema Era un problema Perché in realtà Non te lo godi E non impari E non impari Cioè nel senso Non capisci veramente Quello che leggi E quindi lì ho cominciato A lavorarci E ho iniziato Facendo la stessa cosa Che dicevo della cucina Ok quindi direi Io quando faccio quella roba Faccio solo quella roba Il resto sta fuori Io ho cominciato ad allenare La mente Allo stessa cosa Con la lettura Quindi nonostante la lettura Per me sia parte integrante Del lavoro Perché ovviamente Mi sono letto i pensieri Di Pascal Per l'ennesima volta Per fare la monografia Però in realtà Ho allenato la mente A dire No io quando leggo Non penso al podcast Mi prendo gli appunti Esattamente come quando Li prendevo prima Di avere il podcast Infatti ho un sacco di appunti Di libri che leggo Ma anche di serie Che guardo E via dicendo Che poi non uso Per il podcast Semplicemente Ho un sacco di iperproduzione Di appunti Di pensieri Che poi per l'anno Rientrano nel podcast So che ci rientreranno In un qualche modo Prima o dopo Prima o dopo Dalla finestra Dalla cantina E via dicendo E però Io sono contento Di questa cosa qua Perché adesso per esempio Ho finito di leggere Due romanzi Ultimamente È probabile Che non li utilizzerò Per Daily Cogito Magari li metto nei preferiti Perché mi sono piaciuti Ma non è che Leggendomi Li mi sono goduti E basta Per me comunque è lavoro E se quello che leggo lì Poi mi serve per il podcast Ben venga Ma quando leggo Sono solo lì E questo è un allenamento mentale È interessante questo Sai che tra l'altro Io ultimamente Mi è successa la stessa cosa Con la lettura proprio Perché io facevo Una rubrica mensile In cui recensivo un libro Che avevo appena letto Ok Avevo letto di recente Eccetera E devo dire Che mi sono reso conto Che per me era diventato un peso Era diventato un peso Perché sentivo l'obbligo Di leggere il libro Per fare la recensione Eccolo lì E ho chiuso la rubrica Che capisco Cioè la faccio Quando mi va di farla Bravissimo Quando mi va di fare Una recensione Quindi quest'anno Ho cambiato un po' La programmazione YouTube Ho detto La rubrica del libro consiglio Che si chiamava Quattro frasi Perché sceglievo Quattro frasi Per parlare del libro La faccio quando mi va di farla Assolutamente sì Perché era diventato Un'ansia di Oddio mancano due settimane Al libro consiglio Devo leggere qualcosa Perché se no Allora fammi vedere Quali sono i libri Che vanno di più Cerchiamo di capire No Non è vita Sono d'accordo Perché poi ti rovini Io Per esempio Non so Conosco molti artisti Che mi hanno detto Nel tempo Guarda Quando ho cominciato A fare questo per lavoro Purtroppo parte della passione Che avevo È venuta meno Ok E quella roba lì La temo in un certo modo Perché tipo Per me la lettura è una cosa Cioè io leggo Sempre Perché fa parte di me Ok Trovarmi a un certo punto E dire Cazzo leggo Perché devo parlare Di qualcosa Se no Mamma mia Una roba che mi mette Un'ansia E dico no Piuttosto Ti toglie la gioia Di quello che è il tuo Hobby numero uno Sì sì esatto Una cosa che per me È un comportamento Molto importante Cioè come Mettersi a mangiare Perché devi Devi fare il video In cui mangi No cioè nel senso Mangio perché mi piace Pensi che possa essere La stessa cosa Che succede ai gamer Che devono giocare Perché il loro lavoro È diventato giocare Ma io credo proprio di sì Sai cioè nel senso Io non ho contatto Con tanti gamer Però credo che questo Parallelismo Sia assolutamente possibile Quando ti trovi Beh oddio In realtà Vedendo anche tanti video Di gamer che si lamentano Non so Della relazione col pubblico Della poca risposta Di video Dicendo mi rendo conto Che magari quel divertimento Non è più divertimento Diventa Però posso dire Che su questo Adesso vado un attimo Per la tangente Che poi rientriamo Ci piacciono Che ultimamente Ragiono spesso Sul burnout Dei creator Dei gamer E mi domando Se rispetto ad una volta Sicuramente abbiamo Democraticizzato Tantissimo L'accesso al pubblico Chiunque può diventare Un influencer Oppure qualcosa del genere Mentre un tempo C'era la carriera Dovevi farti C'abbiamo la borraccia Di Twitch La borraccia di Twitch Ci abbiamo Grazie Twitch Ringraziamo Lo sponsor di oggi Twitch La borraccia Non ci sponsorizza Twitch Ci manda le cose A me non mandano niente Nessuno Vuoi che ti mandi qualcosa Io sì Mandiamo qualcosa Dalle sala Dai Cogito Studios Fede I calzini non mi vanno bene Se vuoi te li do Sì volentieri Perfetto Ma sono i calzini di Twitch Sì Ma usati Ed è chi Non entriamo nei particolari E come però Calzini anche come usati Chiudiamo Tutto questo subito Che sono un po' secchi No Fede no No Berro Scusa Ho stoppato Un discorso Che era interessantissimo Dicevo Che ogni tanto Penso che Avendo democraticizzato L'accesso al pubblico Sono arrivati A fare un lavoro A contatto col pubblico Delle persone Che forse A livello caratteriale Nel discorso Spesso con Dario Su questa cosa qui Non avrebbero dovuto Essere lì Ah beh Cioè L'esaurimento Sicuramente è una cosa Normale Ma al tempo stesso Io Non so Amadeus Non me lo vedo esaurito Perché per arrivare A fare quel lavoro A parte che Lasciamo perdere il lavoro Mi è venuto Amadeus Perché qua Mi Niente C'è un niente Di Amadeus Un qualunque Lilli Gruber Non me la vedo esaurita Perché per arrivare A fare quella roba lì Ha dovuto fare Talmente Tanti anni Di lavoro Che evidentemente È fatta Per fare quella cosa lì Invece Lo streamer Che nel giro di due anni Esplode Forse non è equipaggiato O equipaggiata Forse non era la sua strada Ci si è ritrovato Magari gli è esploso in mano Un canale youtube Un canale twitch Aveva una passione Si è attaccato a una webcam E improvvisamente È diventato un lavoro Magari anche molto remunerativo E poi sei in trappola Ma non hai O le competenze O la tenuta psicologica Per fare quel mestiere Quello è il vero problema Tenuta psicologica Non è il tuo Questo ne ho parlato Svariate volte Per esempio Penso soltanto alla relazione Con gli haters Ci sono nostri colleghi Che questa roba Se la vivono di merda In una maniera Veramente devastante Quindi Trovi persone Che per una serie Di non mi piace Si passano un'intera serata O per dei commenti critici Neanche troppo insultanti Passano intere Mezzogiornate A rimuginare A scrivere A rispondere A me è capitato Molte volte Di sentire colleghi E dire loro Ma vecchio Cioè nel senso Fammi il respiro Ma fottitene Veramente fottitene E quindi Quindi sì Io credo che Un problema enorme Sia la tenuta psicologica A cui si aggiunge Il fatto che Non sei preparato Emotivamente Al ritmo All'autodeterminazione Che poi questo lavoro Impone Cioè alla fine Lì veramente Io ho un certo carattere Però mi rendo conto Che se prima Di questa esperienza Non avessi fatto Il lavoro di prima Quando lavoravo Come promotore finanziario Vi dicendo Forse avrei tenuto Molto di meno Perché lì Quell'esperienza Mi ha dato un contatto Con un mondo Che era Che chiedeva Grandi energie Chiedeva Grande determinazione Chiedeva Un certo atteggiamento E mi ha formato Mi ha dato degli elementi Oppure anche L'esperienza di arbitro Che ho fatto Che è stata comunque Un lavoro per anni Per me Quella roba lì Mi ha dato strumenti Per A volte invece Il creatore di contenuti È un sedicenne Diciasettenne Che si trova In quell'età A boom Esplodere Cazzo Si trova con un mostro Da gestire Cavalca la tigre E appunto Io vedo Magari youtuber Soprattutto Perché su twitch È ancora diverso È ancora più Il ritmo Ancora più frenetico Però su youtube Mi capita di sentire Creator Che vanno in crisi E dico E fanno un video Ogni due settimane Allora io dico Ma non lo dico In maniera critica Dico Invece sì Muovete il culo No Dico Se tu Sei in un'ansia totale Ok Per fare Due video al mese Forse E non lo dico in modo provocatorio Forse Non è il lavoro per te No Cioè nel senso Forse Sei bravo a farlo Ma non hai La tenuta per farlo Abbiamo come eliminato La gavetta Che era Io sono d'accordo Perché non avrei avuto Il lavoro che ho Se non avesse Fatto questo cambio epocale Però In un certo modo Abbiamo eliminato Quella selezione Che ti faceva capire No questa roba Non è per me Certo Certo Ma guarda Su questa cosa della gavetta È interessante Perché Io sono abbastanza convinto Provo a Proporti questo ragionamento Vediamo cosa ne pensi Sono abbastanza convinto Che Questa eliminazione di filtri Piano piano sparirà Cioè Cos'è che voglio dire Già adesso Tu Dopo Alla fine La professione del creator Esiste da meno di un decennio Ok Cioè la gente che veramente Ha cominciato a viverci È cicciata fuori Nel 13 14 14 Prima erano veramente pochissimi E quindi meno di un decennio È una professione molto giovane Già in questi anni Però sono venute fuori Per esempio le agenzie Che fanno corsi di formazione Dico per esperienza Che sono tutte cose Che fanno discretamente cagare Cioè nel senso Anche ho sentito dire così Io poi non ho provato Io ho visto gente Che fa delle cose Che stai lì Dici ma da dove vieni fuori Dalla gora Dell'eterno fettore di labyrinth Evidentemente Quindi Gente improvvisata Cioè in realtà Sono creator Che non avendoce la fatta Con il proprio canale youtube Si mettono a insegnare gli altri La classica italianata La classica italianata Perché in realtà A livello internazionale Quindi insomma Arriveremo al momento Però io sono abbastanza convinto In cui accadranno due cose La prima Che sta già accadendo È una saturazione dei contenuti Al punto che La gran parte delle persone Che comincia a fare questa cosa qua Entra un periodo ragionevole Non riesce a trarre un lavoro E quindi ci sarà una selezione Da questo punto di vista E questo accadrà sempre In Diciamo così Erodendo sempre di più La zona bassa Ok Quindi Rimarranno Quelli che fanno I numeri Ok E anche fra quelli Ci sarà una selezione E poi Sempre più in basso Diventerà sempre Più mortifero il meccanismo Ok Perché è una Professionalizzazione È una bolla Cioè è una bolla Molto semplicemente E questa bolla Porta a Ampliamento di competenze Che riesce a professionalizzarsi Continua Chi no invece no E poi accadrà Un'altra seconda cosa Che invece ha a che fare Con la politica Cioè Noi lo sappiamo Lo vediamo anche L'Unione Europea La responsabilità Dei contenuti Delle piattaforme Sarà sempre più forte E questo porterà Prima o poi Sicuramente Già sta succedendo Con le piattaforme A mettere Dei criteri In entrata Adesso i criteri Sono molto blandi Tipo non so Devi usare Un certo tipo Di linguaggio Deve avere un certo tipo Di tecnologia E via dicendo Però questa cosa qua Aumenterà sempre di più Che si alza la barriera Che si alza la barriera Sicuramente Questo porterà Anche questa professione Ad avere La sua deontologia Perché è inevitabile Che prima o poi accada La domanda è Quando accadrà Cioè nel senso Accadrà in questo decennio Oppure Dopo Nel 2100 Esatto Io credo che in questo decennio Comunque vedremo Dei cambiamenti molto forti Da questo punto di vista Però se adesso Un problema Un problema grosso A me piacerebbe Che Quando qualcuno Magari non so Youtube dovrebbe farla Questa cosa qui O Twitch Dovrebbe fare Dei corsi di formazione Dove dici ok Finché è il tuo hobby Boh Vuoi che sia un lavoro Assicurati di essere In grado di farlo Ma non nel senso Di essere in grado Di fare un bel video Che davvero ti piaccia Che sia sostenibile Per te Che sia una cosa Come lo fai Cioè quali sono I consigli che daresti A una persona Per dire testa Questa cosa Io quando Quando qualcuno mi chiede Ma come potrei fare Aprire un canale Io la prima cosa Che io dico è Fai così Portami 300 idee Per un video Se non riesci a scrivere 300 idee Non sei pronto Perché Se guardi le statistiche Per crescere davvero Su Youtube Io non conosco Twitch Non so nulla Però su Youtube Si vogliono le centinaia Di video Mediamente A meno che tu non sia Just Mick Che è un fenomeno E poi con 80 Ciao Mick Maledetto Mick Stronzo Bravi Lui è incredibile Sono andato a registrare Da lui due settimane E ho visto le foto Lui è un fuoriclasse E allora con 50 video E ha già 100.000 persone Vabbè Però è lui La media Sono centinaia e centinaia E centinaia di video Quindi se tu mi dici Ah io vado in burnout Quanti video hai fatto? 20 Sì 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 Non è il lavoro per te Ma non lo dico in maniera cattiva Lo dico proprio Per il benessere psicologico Infatti si vedono Sempre più persone stressate Sempre più persone frustrate Non è quella roba lì Non è facile Fare contenuti Per tanto tanto tempo Ci vuole Ci vuole Una genuina passione Intanto Sì Perché sentivo Uno dei creator Che mi piace di più Io seguo un sacco di recensioni tech Quindi Marques Brownlee È uno dei miei idoli Seguiamo Perfetto Uno dei miei idoli Se fosse il mio Youtube Preferito di sempre E lui diceva Guarda Io amo davvero la tecnologia Perché quando mi vengono A chiedere Io voglio fare lo Youtube tech Insegnami Marques come fare Gli rispondo Ma tu Hai davvero voglia Di recensire 40 telefoni l'anno Certo Perché se davvero Ti va di tenere tra le mani 40 telefoni diversi E provarli Allora forse Sì 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 Se al terzo ti stufi Allora quello che volevi Era la fama Esatto Non era È una cosa diversa Il motivo per cui Sai ti ricordi Qualche tempo fa Venuto fuori quell'intervista In cui si chiedeva A un certo numero Di sedicenni Che lavoro volessero fare da grande L'influencer Eh ma di che E io feci una puntata Ancora un paio di anni fa Quando venne fuori questa cosa qua Ho detto L'influencer non è mica un lavoro Ma non è per Non sono uno di quelli Oh l'influencer Che lavoro di merda No è che L'influencer È uno che Sa fare un lavoro E lo porta Al pubblico Esatto Ok Ti faccio un esempio Ok Bob Liuzzo Magari non lo conosci Ok Bob è un insegnante Allo IED di Milano Di graphic design Wow È un mio amico Cioè adesso è una vita Che non lo vedo Però è uno Anzi devo portarlo qua In trasmissione Prima o poi Lui adesso Lui è molto fermo Con i video Però insegna Lui ha una professionalità Straordinaria Ha intervistato Il creatore Del logo I love New York Per dirti Che è il logo più famoso Della storia Ok E lui Anche se poi Il suo canale Non è mai arrivato A numeri straordinari Però lui Era un influencer Perché La sua professionalità L'aveva messo in contatto Con un Humus Di professionisti Studenti Che si occupavano di quello E i suoi video Venivano visti Avevano un'influenza Avevano un'influenza Quello è un influencer Un influencer è uno Non sono i numeri Che fanno l'influencer Ma poi influencer Non è un lavoro È uno stato Esatto Influencer è un dato di fatto È uno step Di una professionalità Tu puoi essere Un bravissimo architetto Esatto E basta Puoi essere un architetto Che fa lo step Dell'influencer Perché porti La tua professionalità A un pubblico vasto Tra l'altro Non è neanche Secondo me Uno step In alto Ma è uno step Di lato È una cosa Che tu aggiungi È una competenza In più In fin dei conti Che aggiunge La tua professionalità Esatto Esatto Quindi Trovo che ci sia Questo fraintendimento enorme E come dici tu giustamente Tu vuoi la fama Perché per te L'influencer è quello Che non fa un cazzo È ricco Ma non è quella Un po' come Ricky Duffer Insomma Non fa un cazzo È ricco È bello È famoso È simpatico Cioè nel senso C'ha delle cravate spettacolari Meravigliose Che porta raramente Per fortuna Però sì È questa cosa qua Che non È invece Questo fraintendimento Cioè tu non vuoi fare i video Tu vuoi avere fatto i video Che è una cosa Esatto Bravo Bravo Esatto Vuoi avere i video già fatti E fare Vuoi fare l'influencer Ma nella pubblica amministrazione Perfetto Un Influencer di cittadinanza L'influencer di cittadinanza Vogliamo questa nuova figura professionale Assolutamente Assolutamente Però è interessante Perché poi ha delle ricadute Proprio sull'aspetto anche Del sovraccarico cognitivo Se uno tenta di fare l'influencer Senza aver prima La professione sotto Che può essere l'intrattenimento Può essere il gaming Ma è sempre una professione Poi la testa esplode Per forza poi ha il burnout Ci vorrei anche vedere Anche perché poi Tu cerchi Di solito Quando succedono queste cose qua Cerchi di riempirti di informazioni Per capire dove cavolo hai sbagliato Certo E non capisci che hai sbagliato La cosa più basilare di tutte Manca la sostanza Anche perché poi C'è un ulteriore aspetto Nel campo dell'influencer Dell'influencing Anzi in questi casi È dal momento che dominano Le tendenze Ok Cioè nel senso Di nuovo Si fraintende il numero Con il valore Che è una cazzata enorme Si cerca l'emulazione Cioè si guarda uno Come il masseo Ok Allora anch'io Rompo i joystick Esatto Anch'io faccio quella cosa lì E allora significa Che arriverò Ma non è esattamente Cioè non funziona così E quindi si cerca l'emulazione E quando cerca l'emulazione Uno si dimentica di dire Ma cosa che voglio fare Veramente io Cioè io credo Che ci sia una generazione Di gamer E io ho tutto rispetto Per i gamer Ma che poteva fare invece Non so Divulgazione Altro Invece hanno fatto il gamer Perché pensavano Che fosse Quello Che faceva il valore Del successo E via dicendo Quando in realtà Non è così Che poi nove volte su dieci Quelli che resistono Sono quelli che fanno Quello che piace loro fare Ma sì assolutamente Io ci ho provato Col gaming Cioè io Ci ho provato Qui su Twitch Qui su Twitch Ho provato Tipo ti faccio un esempio Age of Empires Grande Straordinario gioco Se io gioco da solo Ti diverti Gioco bene Mi diverto Va bene Bestemmio Fra i denti E basta Se lo faccio online Sono un disastro Non ho mai vinto Una partita In streaming Age of Empires Con grande Sollazzo e divertimento Della community Che mi prende per il culo Altra cosa Guilty pleasure Io Soprattutto in questo periodo Sto giocando a FIFA Ok Ok Io adoro i giochi di calcio Mi sono sempre divertito Un casino Adesso c'è anche La possibilità di farlo online Quindi mi piace Quando umilio un bambino È l'esperienza più bella Di tutte Ma in tutti i campi Io adoro Adoro pensare Quando infilo Il 4 a 3 Al novantatresimo Il dodicenne In Francia Faccio un po' come Come Giovanni Di Aldo Ma chi sono Ma dai E io adoro Questa cosa Perché sono Un pezzo di merda Ok Ne vado fierissimo Assolutamente Gioco online Questa roba Non riesco Non riesco a divertirmi Poi lo facciamo Perché abbiamo creato Anche il morlocchi FC Quindi cioè Non te la godi Non me la godo Cioè per me il game Sai che a me piace invece Ti piace un sacco Ti piace fare gaming Sì mi piace E io ho cominciato I primi video ADC In realtà non erano ADC Era di un canale Che si chiamava adesso Così lo dico Così andate a vederlo Si chiama Eredan Arena Italia Attenzione Eredan Arena Era un giochino di card Io gioco i giochi di card Era un giochino online Ok E per qualche motivo L'ho diventato molto forte Questo giochino E non c'erano persone Era un giochino Rispetto ai giochi grandi Ovviamente aveva decine Di migliaia di giocatori Non milioni Ok E però non c'era nessuno Che facesse dei video Su questa roba qui E io ho detto E io ho fatto i video Siccome era lo stesso periodo In cui cominciavo a fare i video Per la mia roba Sì Facciamo i video Mi divertivo Facciamolo Mi divertivo come un cane Poi l'ho smesso Perché oramai Il gioco andava a morire Io ero stufo In realtà il gioco poi non è morto Però se cercate Eredan Arena Italia Cioè ADC Che game Anche in inglese peraltro Cioè Momenti altissimi Ragazzi Ma cosa ci sta spedando Momenti altissimi Qui io ho fatto il gamer Ben prima di fare Il metodo di studio Voglio dire E mi diverto È che non ho Non ho Se mi metto a fare pure quello Cioè le seme caccia di casa Cioè mi manca solo Di mettermi a giocare Io gioco a Airstone E quella è la mia A Battlegrounds Adesso abbiamo trovato Queste scamottage Il sabato Non facciamo il daily cogito Quindi facciamo una live Cazzara In cui magari O ci vediamo video E li commentiamo Oppure facciamo Tipo il FIFA FIFA 22 Con i morlocchi FC Bello Peraltro in chat Stanno dicendo Continua a portare FIFA Che mi faccio un sacco di risate Del fatto che non ha idea Di come si gioca Vaffanculo In realtà La voce della verità C'è questa cosa qua Io quando gioco in autonomia Cioè nel senso Gioco discretamente bene Ma quando sono in live Ma purtroppo Nessuno può confermarlo Perché nessuno ti ha mai visto Ari 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 però ovviamente Non è Disinteressata Di solito Ari È cattiva quando gioco Quando gioco È veramente cattiva Quindi in realtà Sarebbe una fonte Contrale Rispetto a me Tu sei come quei bambini Che a scuola Ti dicevano che a casa Erano fortissimi Ai giochi Ma io a casa sono fortissimo E poi nel campe Invece poi E sono fortissimo Sono fortissimo a casa Ma ti giuro che ero bravissimo Ma ti giuro Guarda ti assicuro Che ero bravissimo Ma sai che il suo cugino Ha la playstation 7 Ma il cugino Andate a fanculo No in realtà In realtà Comunque questa cosa qua Mi ha fatto capire Ho detto no Io questa Io non sono Non è il mio Non è il mio Capito Non è il mio Mi romperei Io mi ricordo All'inizio di twitch Quando ho portato La blind run Di Come si chiama Bioshock Ok Ok Non è anche finita Cioè nel senso A fine di ogni live ero distrutto Come se avessi fatto Un daily cogito Di 16 ore Ero Basta male la schiena Male le mani Bestemmie dentro Ma mai espresse Non è il tuo Non devi fare il game Esatto Esatto capito Esatto È quello E credo che sia questo Cioè l'intenzionalità Di cui parlavi prima È Data dal Avere l'intenzione Di cercare quello Che fa per te Ok Il contesto In cui riesci a farlo bene E prenderti Quei momenti Per pensarci Oh sì Cioè devi prenderci I momenti in cui Devi pensare solo a quello Cioè pensi Cosa ho fatto Cosa ho sbagliato Cosa è andato bene Analizzi Cioè la metacognizione Stai lì e pensi Ma questa cosa Com'è Esatto La confusione cognitiva Invece È proprio ciò Che ci impedisce Di fare quella roba lì Perché sei sommerso Io ho l'impressione Che tante persone Vivono in un flusso Che non governano E sono spinti A destra A sinistra Sopra e sotto Senza lavoro E si ritrovano A fare delle cose Si ritrovano un lavoro Si ritrovano una cosa È chiaro che ci sono persone Più o meno privilegiate Che possono avere Più o meno scelte Però in generale Vedo tante persone Che vengono trascinate Dagli eventi Certo È chiaro che Appunto non tutti Possono permettersi Di stoppare Ragionare Però è la cosa Se puoi permettere La cosa migliore È la cosa migliore Da fare Astrarsi un po' Fermarsi un po' Posso dire Cioè nel senso Io per esempio La possibilità Ho lavorato all'università Cioè ho lavorato Durante l'università Quindi me la sono creata Cioè io non ho mai avuto Il privilegio di dire Ok mi fermo Prendo l'anno sabato Che vai dicendo A spanne Credo che la possibilità Di crearsi Quelle opportunità Mediamente ci sia Ok Che sia piccola La percentuale Di persone che veramente Non può farlo Io sono sempre prudente Perché io ho avuto fortuna Ho avuto la possibilità Di non lavorare Per degli anni E di dedicarmi A questo Che è diventato Il mio progetto Però altri Non potevano farla Quindi sono sempre Cauto a dire Dovresti fare questo Perché magari Non possono C'è una frase Di Philip Roth Che secondo me È molto molto Indicata Per questo aspetto Che io continuerò Sempre a ripetere A un certo punto Il romanzo è L'animale morente A un certo punto Che Peraltro è un romanzo Sulla vecchia Beh Forse insieme a Everyman Sempre di Roth Romanzo straordinario Sulla crisi Sulla tragedia Della vecchiaia Leggilo perché è straordinario E a un certo punto Il protagonista Che vive E racconta La sua senescenza Ok Soprattutto dal punto di vista Sessuale Parla Parla del rapporto Con suo figlio E gli dice Vivi in un'epoca In cui Per essere infelice Devi Veramente Mettacela tutta Essertela cercata Ok E questa cosa è vera È fastidiosa da dire Perché È sempre difficile Attribuire La responsabilità Dell'infelicità A chi è infelice Perché Sembra Sembra quasi Voler Girare il dito Nella piaga Ok Però Se io faccio Un bilancio Delle possibilità Che L'individuo Medio In occidente Oggi Ha Mi rendo conto Che non c'è mai stata Così tanta possibilità Di dire Ok Mi sottraggo Dalle spire Dell'infelicità Sono d'accordo su questo Non c'è mai stata Così tanta possibilità Esatto Che non significa Che tutti Siano Ben messi Significa Se sei infelice È più probabile Attualmente Che un po' Te la sei cercata Rispetto a 50 anni fa Rispetto a 50 anni fa Poi Puoi essere Parte integrata In quelle persone Che cazzo Colpo di sfiga Su colpo di sfiga Situazione Però Prima cerca Le condizioni Che hanno Autoindotto Quell'infelicità Se poi non le trovi Ma sia onesto ovviamente Se poi non le trovi Allora Che poi comunque Anche chi Anche chi purtroppo È Devastato Dalla sfortuna O dalla mancanza Di privilegi Eccetera Comunque Qualcosa Per cercare Di migliorare La sua condizione Può farla Poi magari Purtroppo Può arrivare Fin lì Ci sono delle persone Appunto Nasci oggi Donna in Afghanistan E vabbè Certo Le possibilità Sono molto Però Qualcosina Per migliorare La tua condizione Si può fare Probabilmente Sì Hai Dappertutto Questa possibilità Qua Poi cosa vuoi Oggi più che ieri Senza dubbio Oggi però Noi sì L'animale morente Esatto Di Rote Romanzo straordinario E oggi Noi abbiamo Rovesciato Di nuovo Questa confusione cognitiva Ci porta anche Ad avere Un sacco di possibilità Di dire Ah cazzo Ho fallito qua Non ho fatto qua Non ce l'ho fatta È per questi motivi qua Ok abbiamo la scusa buona Perché Nel caos Informativo Abbiamo colpa Ci viene data anche sempre La scusa buona Capito Ecco Tornando al discorso Della confusione cognitiva Della politica Che dicevamo all'inizio Quelli che danno la colpa Alla politica Mamma mia Allora Sono d'accordo Che ci sono delle brutte situazioni Anch'io Quando vedo salire in tv Mi viene l'herpes Però Non puoi attribuire A quella persona lì Nello specifico Le tue sfighe O al fatto che Il governo va male Allora io No Allora io Niente Comunque noi abbiamo Appunto In occidente In media Un potere Di controllo Sulle nostre vite Incomensurabile Da quello che c'aveva Il duca Che gli dicevamo Adesso fai le corvée E muto Se no prendi le bastonate Non è più quel mondo lì Per fortuna Assolutamente Assolutamente Guarda proprio in questi giorni C'è l'elezione del Presidente della Repubblica Ecco E ieri Mi è capitato Ho ricevuto molti messaggi Di gente che mi fa Oh Rick ma hai visto Hanno votato Cicciolina Hanno votato Amadeus Hanno votato Alberto Angela Sì di Piero Angela Alberto Angela E la mia risposta A tutte queste persone è stata E quindi Non occupartene Cioè non occupartene Non 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 sta lì Non occupare Perché vedi Sempre in termini di intenzionalità Noi Non ci occupiamo più delle cose Ci facciamo occupare Ecco sì 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 Questa è una bellissima definizione Sono d'accordissimo Cioè ci facciamo Lasciamo Che entri Nella nostra Nel nostro spazio mentale Un sacco di roba Che è completamente inutile Questo succede anche con i trend Mi ricordo che ne avevi parlato Quando era uscito Il Cos'Squid Game Eccetera eccetera Che hai detto Ma io non voglio fare un video su Squid Game Non voglio fare un video su Squid Game Andate a fanculo No Ah vabbè Ma certo che non l'ho fatto Però voglio dire Effettivamente ci facciamo occupare Arriva il trend del momento E ci facciamo Magari a noi non ci piace neanche Quindi non ci interessa Però ne dobbiamo parlare È un problema quello lì È un problema E con la politica è lo stesso A un livello ancora più invasivo Probabilmente Sì 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 Ed è Guarda E questo è il motivo principale Per cui adesso abbiamo cassato Il rassegnato stampa Perché mi rendo conto Che questa cosa qua Secondava una tendenza Che in realtà secondo me Non è buona Non è buona Che è quella di Convincerci Che cose che non hanno importanza Hanno importanza Hanno importanza Perché altri dicono che ce l'hanno Perché altri dicono che ce l'hanno Perché tutti ne parlano Eh sì Perché conversazione è scambio di idee Ok Tipo io Su Matrix 4 Abbiamo avuto uno scambio di idee Ok si può fare Certo Ma nella stragrande maggioranza dei casi Non c'è questa conversazione È un È bello È brutto Scanniamoci Vaffanculo Non capisco un cazzo Esatto Non c'è una conversazione Capito E allora lì dici Minchia Cioè stiamo veramente Investendo il nostro tempo Ci facciamo occupare Da cose che non hanno reale importanza E lì diventi Diventi brutto Diventi cattivo Diventi rancoroso È inevitabile Perché Sì ma perdi il controllo Perché Il tuo La tua mente È satura di cose Che tu non hai messo lì Esatto Mi è venuto in mente In questo esatto istante Una frase Che c'è Penso sia il primo Se non il secondo capitolo Del Uno studio in rosso La prima volta che si incontra Sherlock Holmes E c'è E c'è Watson che dice Riporta la frase Di Holmes Diventata famosissima Che la mente è come una soffitta E bisogna tenerla in ordine E quello è il motivo Per cui Sherlock Holmes Non sa Che la terra Gira intorno al sole Perché non gli serve Per i suoi casi Perché lui ovviamente È maniacale Bellissimo E lui però Nella sua soffitta Ci mette solo quello Che vuole metterci E tutto il resto Sta fuori Però ovviamente Senza arrivare Agli estremi Di un personaggio letterario Chiaramente E anche un pochettino Anche all'interno Del mondo letterario Era un pochettino Maniacale Borderline Però è così Cioè Se abbiamo qualcosa Nella mente Tendenzialmente Dovrebbe essere lì Perché abbiamo scelto Di mettercelo Esatto Esatto Una scelta Io ne parlo Spessissimo E tra l'altro Nel mondo dello studio Questa cosa qui È diventata Evidente Nella moltiplicazione Delle fonti Ok Gli studenti Rispetto anche Solo a dieci anni fa Hanno molte più fonti A disposizione Perché possono trovare Il libro in inglese Perché possono trovare Il blog che ne parla Perché possono trovare E non sanno più Da dove studiare Perché passano I giorni Ad accumulare Manuali Fonti Blog Articoli E poi non studiano però Perché il materiale Diventa così tanto E così variegato Così multisensoriale Eccetera Che poi non sai più Dove muoverti Non sai più Che ordine fare La selezione È un elemento Fondamentale dello studio Se tu accumuli e basta Non impari nulla Devi proprio selezionare Anzi la capacità Di scremare Di dire Questo sì Questo no È apprendimento Perché è proprio Un atto di scelta Consapevole Che è fondamentale E sai da questo punto di vista C'è proprio un tema Filosofico qua Potente che entra Perché io Sono abbastanza convinto Che questa perdita Della capacità Di selezionare Di filtrare Sulla base Di quello che uno è È legata al fatto Che noi Ci siamo disinnamorati Filosoficamente Dell'individuo Cioè nel senso Noi Noi Ci sono dei filosofi Che io adoro Tipo non so Daniel Dennett Che conosci I quali hanno fatto Una crociata Dell'idea Che la soggettività Che il soggetto Non esiste Che è il classico Costrutto sociale Via dicendo Tutto lo strascico Foucaultiano Di cui sono appassionato Nel senso Io ho sottolineato tantissimo Ho fatto anche le monografiche Su questi qua Quindi Grandissimi filosofi Però hanno trasformato L'idea Del Il soggetto È un costrutto Nell'idea Che tutto ciò Che concerne Il soggetto In qualche modo Sia un'illusione Di cui dobbiamo disfarci Fra cui l'intenzione Il libero arbitro Tutte queste cose qua Ok Noi possiamo discutere A livello filosofico Il problema è che Questi hanno spinto Talmente tanto Che questi messaggi Sono entrati anche Nella politica Sono entrati anche Nelle scienze sociali Sono entrati dappertutto E noi Abbiamo smesso Di credere Nelle nostre intenzioni Io sono Guarda Qui sfondi Una porta aperta Perché io credo che Che sia vero o no Che siamo solo Costrutti sociali Che siamo Cioè Vado ancora più in là Facciamo che questi Hanno ragione Ok E che non c'è dubbio E che siamo costrutti Sociali al 100% Che non esiste L'intenzionalità Eccetera eccetera Comunque Anche fosse vero Tutto questo Converrebbe comunque Pensarla E agire Come se invece Non fosse vero Ma anche perché Non possiamo agire altrimenti Esatto Cioè ognuno di noi agisce Tutto ciò che di buono Possiamo avere Viene dall'intenzionalità Che esista o non esista Che sia vero o non sia vero Quello è un problema Da risolvere Casomai per la scienza Per la filosofia Eccetera Ma nella nostra vita A mio avviso Noi dobbiamo agire Noi dobbiamo agire come individui Perché è l'unico modo Che abbiamo Per fare qualcosa di buono Esatto Quando si agisce Come gruppi sociali Nella storia Non succedono delle belle cose È un disastro Perché non agisci più Cioè nel senso Di nuovo Ti fai occupare Da idee Da comportamenti Da tendenze Non scegli più E a quel punto lì Invece tu ti rendi conto Che quello che dicevi prima Cioè Prendi l'esempio Di selezionare le fonti Ok Cosa vuol dire Selezionare le fonti Non vuol mica dire Vuol dire anche Non so Per esempio Imparare da Un maestro del giornalismo Cosa è buon giornalismo E cosa è buon giornalismo Vuol dire anche Capire Qual è la coerenza Di un discorso E quale no Ma vuol dire anche E per me soprattutto Dove voglio andare io Cioè nel senso Il tipo di individuo Che voglio essere Dipende Dalle informazioni Che lascio entrare E come le processo Ma prima parte Certo Dall'ingresso Parte dall'idea Che io Le mie intenzioni Me le curo Cioè Ho cura Delle mie intenzioni Ho cura Dei miei gusti Ho cura Del mio modo Di esprimermi Ho cura Di queste cose Senza questo Divento il risultato Di ciò Che casualmente Mi colpisce Ti è mai capitato Di trovarti di fronte A quelle persone Che individui La loro O la loro L'aderenza A una teoria O a una battaglia sociale E improvvisamente Puoi prevedere Al singolo vocabolo Quello che diranno Tutto A me fa una paura Quella cosa lì Perché sei un robot A quel punto Programmato Da chi poi Assolutamente Che hanno un pensiero Come dire Non è neanche banale Perché magari è profondo Ma è prevedibile Certo È standardizzato Non c'hanno Un'idea originale Questo è il motivo Per cui tra l'altro Mi sono Uno dei tanti motivi Ma forse il più grande Per cui mi sono allontanato Dalla politica attiva Io militavo Certo E ho smesso di farlo Perché all'interno Del partito Non c'è spazio Per qualcuno Che ragiona In una maniera Hai già reso pubblica La tua Forse no È la prima volta Però comunque Non ho nessun problema Faccio un tau nel PD Ah ok Militavo nel PD Buttiamo fuori Questo è il nostro Scherzato Due volte tra l'altro Perché non mi è bastata Una volta La prima volta La prima volta La prima volta Me ne sono andato Me ne andai E tagliai la tessera Quando Renzi Chiede la coltellata Letta Quella fu la prima volta Che io dici No basta Io non voglio saperne più niente Qualche anno dopo Mi dissero Ma dai Torna E va bene Riproviamo Poi dopo il referendum Dico No basta Io voglio darmene via E però Uno dei motivi Per cui me ne sono andato Era che Che io fossi d'accordo Oppure no Con quello che gli altri dicevano Il punto era Che non avevo di fronte Delle opinioni Ma avevo di fronte Le opinioni che venivano dal leader Poi magari ero d'accordo Ma A mio modo di vedere Il motivo per cui tu pensi una cosa È importante Tanto quanto quello che pensi A me il pecorone Non mi va bene Neanche se sono d'accordo con lui Certo Allora io sono una persona Tendenzialmente di centro-sinistra Quindi sarò Sono più spesso D'accordo con quelle idee lì Ma quando vedo il pecorone Di sinistra Mi piace tanto Poco Quanto quello di destra Perché è un pecorone Certo Certo Sì perché non è quello che pensi Ma è come ci sei arrivato È come ci sei arrivato Se tu pensi così Perché l'ha detto Renzi Sì 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 Non mi va bene Sei uguale a quello della Lega Solo che dal mio punto di vista Sei dalla parte giusta Ma per caso però Questa è la differenza Fra il riflettere e l'aderire Cioè nel senso Ci sono persone che aderiscono Per me l'aderenza è uno dei concetti più merdosi della storia Cioè nel senso L'aderenza significa Io prendo e mi appiccico come una serie di ventose A qualcosa che già c'è Ok Aderire Non ha nulla a che vedere con la riflessione Ok Riflessione invece significa che Di fronte a ogni singolo evento Con cui entro in contatto Sulla base di quello che io sono Delle mie intenzioni E anche delle fonti Che nel tempo Se nel senato Io mi faccio la mia idea Motivo per cui Non so Cioè nel senso Io Mi trovo di fronte a Idee di destra Di sinistra Di centro E sono d'accordo In disaccordo Con pezzi di queste Pezzi di quelle Certo certo Non ho mai Cioè nel senso Non ho mai avuto La parte più sana della politica È quella cittadina Eh sì certo Che allora tu ti confronti Con dei temi Certo Concreti Allora voglio fare quella rotonda lì Oppure no Secondo me non va bene Allora lì trovi un ragionamento Perché ti tocca da vicino Più vai sull'ideologia E più è il leader che detta la linea Eh sì assolutamente E quella è Assolutamente E anche lì cosa diventa L'aderenza È un altro modo per riempire gli spazi Cioè se io aderisco Significa che ogni volta In cui mi troverò di fronte A quel problema O a qualsiasi problema Io ho già a posto E non devo prendermi Quello spazio Per fermarmi E dire Ma io Com'è che la penso Su sta roba Anche perché Potresti scoprire Che la pensi In un modo diverso Guarda Ritornando a come siamo Come abbiamo aperto Io non vedevo l'ora Di odiare Matrix 4 Per parlarne Con gli amici Che ha fatto cagare a tutti Quindi non vedevo l'ora Di partecipare E poi mi sono ritrovato A cedere Caprono Però a me mi è piaciuto Cosa faccio adesso A chi lo dico Lo dico Oddio in trasmissione Oddio Cosa fa Comunque davvero A parte gli sky Ho avuto il momento Ma a me mi è piaciuto Che faccio Perché se ti fermi A ragionare Scopri che magari La pensi in un modo diverso Magari inaspettato Esatto Esatto E quindi Però devi avere il coraggio Anche perché Non è neanche coraggio Secondo me È amor proprio Sì è volersi bene È volersi bene Perché io sono convinto Cioè l'aderenza È fatta per le vongole Cioè nel senso È bello L'aderenza è fatta per le vongole Non certo per Creature pensanti Insomma Adesso ci sarà quello che dice Cioè ma guarda che le vongole Pensano No Le vongole non pensano Mai visto Mi prendo questa responsabilità Di dire che non hanno un sistema nervoso Le vongole Le vongole non pensano Le vongole non pensano Discrimiamo le vongole Giustamente Giustamente In basso nella catena del pensiero Giustamente Giustamente Comunque sì Io credo che Guarda l'ho scritto anche Nel post di inizio anno La parola intenzionalità È proprio una cosa Che dobbiamo assolutamente riscoprire Io Cioè Vedi È il confine in cui La filosofia Entra proprio In un ambito Che non ha più a che fare Con l'empirismo Ok Io devo credere Nelle mie intenzioni Cioè Devo Avere Fiducia Alcuni potrebbero dire Fede Il fatto che Quella cosa che sento Dentro di me Che mi spinge In una direzione È reale E non è una cosa Semplicemente Un'illusione prodotta Poi Come dicevi anche tu prima Magari lo è Magari lo è Ma non importa Ma tu non puoi agire Come se non lo fosse Esatto Altrimenti Ti autodistruggi E allora Ecco lì Che entra Il tema Del Mettersi degli ostacoli Che non ci sono Ok Che non hanno senso Se tu Smetti di credere Nelle tue intenzioni Sarà inevitabile Che ti ritaglierai Una bella fetta Di infelicità Sì perché poi Non sei più padrone Di niente E posso dirti Che addirittura Io l'intenzionalità A volte la sperimento Anche nelle piccole cose Cioè la stessa cosa Nello stesso momento Fatta con intenzionalità Oppure no Ha un gusto Completamente diverso Cioè Pensa per dire Non lo so Giochino sul cellulare Stupido Puoi farlo In maniera Mindless Perché Oppure puoi dire Adesso voglio giocare Al giochino del cellulare Ok E te lo godi Cazzo Sei lì E dici Cavola adesso Io voglio giocare E mi diverto Oppure adesso Voglio andare Sul canale youtube Guardarmi E guardarmelo Davvero E tu La stessa cosa Che avresti fatto La fai con un'altra intenzione Impresivamente migliora Quando tu ci metti L'intenzione È come se fosse un po' Una luce che accendi Un qualche cosa E rende migliore Qualunque cosa tu faccia Sì sì Quando sei passivo O passiva In generale Non riesci nemmeno a Essere soddisfatto Di qualcosa Certo Se non l'hai voluto Sono d'accordo Sono d'accordo Peraltro Possiamo anche annunciare Che intenzionalmente Siamo anche diventati In questi mesi Compagni di scudere editoriale Cioè lo possiamo dire Lo possiamo dire Ma tu l'hai già fatto Disclosure del tuo Del titolo del tuo libro No Non l'ho ancora L'ho ancora detto Lo facciamo qui Facciamo il Lo facciamo qua Però prima ti dico Questa cosa qua Allora Io in questi mesi Ho sempre detto Anche in accordo Con Filtrinelli Ok Aspetto per dire il titolo del libro Aspetto per dire il titolo Qualche giorno fa Mi arrivano messaggi Su Instagram Di gente che mi fa Eh guarda che Filtrinelli Ha già spoilerato il titolo Su Amazon Sì anche il mio Ma 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 Cacchio Ma il tuo quando esce? Allora il mio esce Il Dovrebbe essere 25 aprile Ok il mio esce il 3 marzo In teoria Il 3 marzo In teoria Arrivi prima Arrivo prima È appena uscito Quello di Massimo Polidoro Che ha inaugurato Geniale Geniale Ok Che è una nuova collana Di Filtrinelli Nuova collana E voglio dire Hanno messo Massimo Polidoro Con noi due Sono veramente Veramente grato Però Massimo Scusa Massimo Non era geniale Aia Ma tu sai che ho fatto La recensione Dell'ultimo libro di Massimo Che tra l'altro È bellissimo Sì E ho detto Cioè c'è lo schwa Eccetera Oh non hanno Avessero parlato Di qualcosa di diverso Nei commenti Solo lo schwa La quantità di gente Che fa incazzare Questa cosa Io tra l'altro Ho scordato la tua Trasmissione sullo schwa E mi è anche piaciuta E sono d'accordo Su quasi tutto Io non sono un grande fan Dello schwa Come linguista Io trovo che sia Una forzatura Della lingua italiana Cioè capisco Mi sta bene L'intenzione Di inclusività Non mi sta bene La soluzione Non mi piace la soluzione Ma detto questo A me non sta bene Neanche l'intenzione Mi ricordo Che la lingua di scrivere L'ho ascoltata bene Sì sì Non sono d'accordo Magari ne parliamo Ma Mi sorprende Quanto si incazzi la gente Anche se non sei d'accordo Certo Non sei d'accordo Ma ok Ok Non sono d'accordo Sembra che gli hai Offeso la madre Cioè questa è una cosa Che mi ha colpito Veramente Madonna Va bene Non sei d'accordo Ci sta Posso dire Allora Su questo io dico Due cose Allora la prima È Che in realtà Questo fa parte Di tutta una serie Di comportamenti Che sono comportamenti Che sono stati sempre Presentati in modo Molto 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 Odioso Ok Sì certo Sono parte integrante Di quel politicamente Corretto Che Mettiamo il caso Che abbiano ragione Di esistere Sono sempre stati presentati In maniera odiosa Paternalismo Sono d'accordo Però non Massimo Polidoro No non Massimo Polidoro Però contestualizzano Però ecco Questa è la seconda cosa Che voglio dire Io lo dico anche a Massimo Perché insomma Spero di averlo qua Di nuovo in trasmissione Molto presto Massimo Se metti in copertina Lo schwa Poi devi avere il coraggio Di metterlo Per tutto il libro Cioè Attenzione Perché Nell'introduzione del libro Che io ho E ho letto Ed è un bel libro C'è scritto Che ho messo lo schwa Per Perché ci sono sempre più scienziate E quindi Volevo Includere Però poi con l'editor Abbiamo capito Che questo avrebbe reso Il libro illegibile Attenzione Intanto anche qua Dico due cose La prima Ricordiamoci che Linguisticamente Scientificamente Il CICAP Dovrebbe dare importanza A questa cosa qua I linguisti Sono tutti Praticamente concordi Nel dire Il maschile sovraesteso Non è maschilismo E non è maschile Il maschile sovraesteso Esiste Per inclusività Sì poi A me non piace Per un altro motivo Che non c'entra nulla Con l'inclusività Ma c'entra con L'immedesimazione Cioè A me piace Quando leggo un libro Il più possibile Immedesimarmi In quelle parole E ho fatto un pensiero E il mio pensiero Si ferma lì Non è filosoficamente Più profondo di così Se il libro fosse scritto Tutto al femminile Riuscirei ad identificarmi Bene come E mi sono dato la risposta Sarebbe un po' strano E quindi ho detto Beh Se si può evitare Si evita Poi lo Schwan non mi piace Perché appunto Rende illegibile il libro Ma Allora lì Ti sei risposto da solo Cioè Se reggi Se esteso Tutto un libro Lo rendi illegibile Allora non è la soluzione giusta Non è che non è la soluzione giusta Io dico questo Quindi è una soluzione di marketing Quella di massimo Che capisco è La capisco Non hai neanche detto Che l'abbia presa lui Non lo so Non gliel'ho chiesto Hai detto non lo so Io quello che dico è Io poi tra l'altro Ma Ma quello che Che non capisco Capisco quello che dici Che è stata spesso presentata Questa cosa in maniera molto antipatica Dopo io per esempio Ho ascoltato la tua critica Io Diciamo Arrivo allo stesso livello Alla stessa conclusione tua Cioè non mi piace lo Schwan Non Non la penso come te Sul Sulle intenzioni Ma detto questo Non capisco perché incazzassi Cioè La tua La tua opinione per esempio Anche se io non la concordo Mi sembra sensata Argumentata Ragionata Non è la mia Ma la rispetto Perché è ben delineata Però non è che ci siamo offesi La madre a vicenda No no Non è che se c'è un libro Con lo Schwan Allora devo sfoderare Le lame E cominciare Non sei d'accordo Diciamo che Allora Lo Schwan come tante altre cose È in realtà È un simbolo di appartenenza Nel linguaggio Il simbolo di appartenenza Non è una cosa desiderabile Tutto lì Cioè nel senso I momenti della storia In cui Nel linguaggio Sono entrati simboli di appartenenza Non sono momenti storici Particolarmente felici No sono d'accordo Questo è quel problema Quindi è diventata una bandiera Lo è stata dall'inizio Perché io ricordo Spesso Sbandierata con antipatia Lo ribadisco qua Quando Vera Geno È stata qui in studio Guardatevi l'intervista Vera Geno Che in Italia È la promotrice Iniziale dello Schwan Dice Testuali parole Non ho mai pensato Che potesse essere Una proposta Di riforma Della lingua La prima volta In cui l'ho proposto Era letteralmente Uno scherzo Che è stato preso Su scelto da tanti Il fatto che Però lei è una linguista Quindi è evidente Che non può pensare Di estendere lo Schwan Dappertutto Perché non è così Che funziona la lingua Tra l'altro Il fatto è che Vera In studio da noi Dice questa cosa qua Quando poi va I festival In cui la gente Usa lo Schwan Dice che in realtà È una proposta Di riforma della lingua C'è un problema C'è un problema Di coerenza In queste cose qua Però di nuovo Questo ha a che fare Con il fatto Che sono simboli Di appartenenza Io per esempio Che a differenza tua Mi stava bene L'intenzione Ma non la soluzione Ho dotato Una soluzione diversa Per me Per esempio Nella scrivere il mio libro Mi sono messo nei panni Di una ragazza Di una donna Che lo leggesse E non volevo Quell'elemento Che io mi sono dato La risposta Sarebbe un po' strano Di sentire tutto Al genere Di qualcun altro E sono riuscito A scrivere il libro Tranquillamente Senza usarle Nell'uno o nell'altro Ah beh Questa è una soluzione Assolutamente E inizialmente Quando ho cominciato a scrivere Ho detto Madonna Sarà difficilissimo No No Se tu sei Uno che scrive un libro Sei capace di girare la frase E allora La scrivi come se devi scrivere E tutto il libro È scritto senza maschile Io in alcuni momenti In alcuni momenti Quando mi rendo conto Che la cosa che dico Magari è molto intima Molto Allora Utilizza il posto Utilizza individui Cosa del genere Persone Oppure Se proprio non posso Dico maschile e femminile Uno dopo l'altro Però dall'altra parte Io ritengo Ritengo incredibile Che delle persone Quando io vado a fare uno spettacolo E dico Buonasera a tutti Pensino Che io mi rivolga solo agli uomini Cioè Ale Ale Capisco Capisco Che ti dia Lo stiglio Ci sta Ci sta Nessun senso Io però credo In un principio di Credo che Finché non fai male a nessuno E per esempio Ecco Tentare di inserire lo schwa Forzatamente nell'italiano Secondo me È fare male a qualcuno Però finché non fai male a nessuno E cioè per esempio Usi delle perifrasi Come faccio io Tenti Allora se Una porzione del mio pubblico Sta sulle balle Il maschile è sovresteso Se io posso evitarglielo Lo faccio volentieri Se posso Senza ottenere Non mi metto a parlare Con una vocale Tra l'altro Che in italiano Non è presente Perché lo schwa La maggior parte della gente Non lo sa nemmeno pronunciare Perché non ha studiato A meno che uno non sia molisano E quindi pronuncia sempre O napoletano Tantissimo È vero È vero Yam Ad esempio Che avrò pronunciato malissimo Però Lo schwa Nella ponetà Però voglio dire Se posso Fare un Favore A delle persone Nel mio pubblico Lo faccio Senza però Scadere nel parossismo Cioè senza Senza Il problema è quello Il problema è quello Secondo me Ed è per quello Che si è scaldata tanta Il dibattito è molto caldo Perché fa parte Di tutta una serie di cose Che di principio Io personalmente Rigetto Poi ogni volta che ne discuto Ne discuto in modo pacato Ecco questo è È questo È questo esatto Però Credo che quella cosa Che hai detto Cioè il fatto di Cazzo mi ha offeso la mamma Arrivi da tutte le parti Da tutte le parti Sì 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 anche Da quelli che usano Cioè nel senso Io per il video sullo Shva ho ricevuto Dei messaggi Anche in privato Che stai lì Dici ma tu Ma tu Ma veramente Scrivi ste robe Cioè nel senso Gente che va in giro A dire Tipo io C'ho gente Che per quel video Ha scritto A editori con cui collaboro Che io sono Un fascista Sessista Ok E stai lì Dici Vez Vez Che tanto è inclusivo Date una calmata Vez Tra l'altro In Veneto È praticamente Qualunque cosa Comincio Comincio Guarda I libri Comincio a scrivere Sempre Vez No perché È perché no C'è un Vez Un Vez Un Vez è tutti La gallina del pollaio Vez Esatto Vez Vez L'inclusività Sta nel Vez È totale No però Ecco secondo me Quello che Quello che ha senso fare Secondo me Secondo me È discutere Discutere di queste cose Senza Questo Esagerata Politicizzazione Anche perché Sono dei temi Secondo me Molto interessanti Cioè il fatto Che il linguaggio Sia una delle prime frontiere Di battaglia sociale È importante È sempre stato così È giusto che sia così Senza però Madonna Allora quello che usa lo schwa Se non usi lo schwa Ti viene a dire E quell'altro Dice No esatto A me questa cosa Mamma Ottima Una volta ho fatto L'annuncio Perché cercavo Un Una stagista E lì Stagista Quando t'ho scritto io Anche mi candido Esatto Ma un Ma Cos'è che ho scritto Ho scritto un Con l'asterisco Ho scritto E anche lì Mi è piovuta la merda Volevo solo evitare Che nel titolo di youtube Ci fosse un Barra una Che non era tanto Tanto Beh ho messo Anche lì Potremmo Mentre cercaci stagista Sai che Dopo ci ho detto Però poi alla fine Aveva creato engagement Quindi da marchettaro Beh adesso Vedi che sei Un marchettaro Ma certo Perché poi me la tira Allora facciamo la polemica Facciamola Cioè Voglio dire Sono cresciuto su Forchan Le polemiche Un mattoncino alla volta Tutte queste cose qua Hanno creato il dibattito In cui ci troviamo È così È così Marchettate su marchettate Si arriva a prenderci Coltellate Nuovo 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 motto Del canale Me lo tatuerò Comunque Comunque Non abbiamo annunciato Il titolo Il titolo Il titolo Il titolo Il titolo È Vince chi impara Vince chi impara Un titolo assertivo Mi piace Il testo È un testo invece Fortemente ironico E quindi Che gioca su questa Falsa Falsa Sicumera Naturalmente Che poi è Un artificio Insomma A me piace scrivere In maniera ironica Quindi prendete il culo Me stesso E il lettore Continuamente Che ci piace Cerco di spiegargli Qualcosa di interessante Bello 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 No il mio invece è Seneca tra gli zombie Eh ma che bello E così faccio incazzare In nuovo tutti quelli Che lavorano all'università E scrivono Ontologia Dei Cosmici Poi in serie Ai degriani In realtà il mio È un saggio Molto Non avrai mai Una cazzera Di filosofia All'universitare Ma chi cazzo La vuole Alla fine Mi faccio la mia università Ti ha fatto Cultura della madre Guarda devo sentirlo In questi giorni Devo sentirlo In questi giorni Sì sì L'idea c'è ancora Però purtroppo Con tutti i casini Fra novembre e dicembre Trasloco Quarantenne È stato impossibile Ma adesso lo risento Sì sì Lo facciamo Lo facciamo Ed è no Il libro in realtà È un po' Una continuazione spirituale Dell'elogio dell'idiozia Devo dire Non mi ha aspettato L'hai letto Ti è piaciuto? Sono contento Ti ho fatto la recensione Hai ragione Però quando abbiamo fatto La presentazione L'avevo letto tutto Ah erano i pianeti Scusa Scusa No scusate Io ho solo fatto La presentazione Dal libro In una serata Però Non mi ricordavo Qual era Dei due Che non ho letto No l'ho letto E l'ho letto Tra l'altro In tre giorni Full immersion E mi è molto piaciuto Mi ha dato un sacco Di stimoli E tant'è che Avevo aperto Come si permette Dovevi farmi pensare Alla domenica Io volevo Stare lì Sul divano Allora Seneca Tra gli zambi Ti piacerà Perché è un po' Una continuazione spirituale Dell'elogio Non vedo l'ora Perché è stato Molto faticoso Scriverlo Devo dire Perché questa volta A differenza di tutte le altre volte Mi sono preso Veramente male Con i tempi Devo dire Che questa volta Ho gestito male i tempi E a novembre Io ho fatto Un mezzo burnout Perché avrei dovuto Sospendere Il rassegnato stampa Invece ho voluto Mantenere il rassegnato E lì cogito E scrivere Il libro Ed è stato veramente Quanto tempo l'hai scritto? Beh scritto In due mesi e mezzo Tieni conto però Tutto quello che c'è dentro È parte integrante Di un sacco di materiale Degli ultimi tre anni Non l'hai scritto da zero Certo No 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 Un sacco di cose Le ho prese Le ho riviste Le ho rimesse Quindi cioè nel senso Certo Io ci ho messo tre mesi E volevo morire Eh sì sì Lavoravo dal lunedì a venerdì E poi sabato e domenica Si scriveva Justica È stato molto pesante Infatti La prossima volta Me ne prendo Il doppio almeno Per scrivere Perché insomma Eh sì 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 No bisogna prendersi Però però è bello scrivere Bello scrivere Bello scrivere Ti dà una bella soddisfazione Diversa rispetto al video No È ancora È ancora Il luogo dove puoi prenderti Il maggior spazio mentale Per esprimere quello che vuoi Non c'è nulla a fare La scrittura Puoi progettare proprio E dire Questa cosa qua La voglio spiegare bene Sì 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 La voglio dire così Capito Senza lasciare nulla al caso È Quello è fondamentale È fondamentale Sì sì La scrittura è importante Eh guarda Sono Meno dieci alle otto Cioè nel senso Io credo che sia anche Il momento di prendere Alzare il culo Andare a farci la grigliata Cioè io Mi è stata promessa Una grigliata Io voglio questa La grigliata c'è La grigliata Guarda ti dico solo Dico anche il menu Alla gente Ok Abbiamo delle braccioline Di maialino iberico Che vecchio mio Cioè nel senso Vez Cantano Cantano Meraviglia Costicine Belle Sono proprio sexy Poi una bella salsicciozza Ok di quelle che Che ci sta sempre Per completare il menu E poi abbiamo Abbiamo dei vari contorni Quindi insomma Ci stai Meraviglia Ci stai Ti sembra bene Assolutamente Mi fai persino dimenticare Che non ti è piaciuto Matrix Dedichiamo Un dieci minuti A qualche domanda Ma certo Però Nel frattempo Io saluto Quelli che invece Ci hanno visto indifferita Trovate sotto Tutti i riferimenti Al canale di Alessandro Ormai Cioè Ai Cogito Studios Più diario Ormai Sono più qui Quindi Quindi bene così Anzi Io Stiamo cambiando regista Quindi se ti va Voi un nuovo Voi un nuovo percorso Voi fare il regista I Dei di Cogito Ma io sì Io vorrei Anche come scrittore ombra Per scriverti Scrittore ombra Se ti scrivo le cose No cioè Sei lo scrittore che scrive Però ogni tanto mi porta un'ombra Di rosso Cioè è così È così È così che si fa Per fortuna che la live sta per finire Grazie a tutti Se siete in live Non andatevene Perché adesso insomma Rispondiamo a qualche domandina E Ale grazie Sempre un delirio Creativo Non so di cosa dobbiamo parlare Come sempre Non ne ho idea Non ne ho idea Però è stato bello È stato bello È stato bello Ciao a tutti Arrivederci Come si pronuncia l'asterisco Sempre pronunciato così Ciao a tutti Però è impronunciato Ciao a tutti Ciao a tutti